Questo fine settimana avremo condizioni di tempo in cambiamento sulla regione. Nella giornata di sabato l'afflusso di deboli correnti umide nei bassi strati provenienti da Sud Oves porterà un cielo da nuvoloso a coperto con maggiore nuvolosità sulle zone orientali e anche delle possibili piogge deboli nel pomeriggio e in serata. Tempo migliore in montagna, soprattutto in quota, nelle zone più interne. Temperature massime in calo di qualche grado per l'effetto della nuvolosità. Peggioramento domenica con maggiore nuvolosità su tutte le zone piogge sparse, debole, moderate, intermittenti al mattino decisamente più abbondanti anche intensi in serata, soprattutto sulla fascia occidentale. Sulla costa soffierà scirocco con intensità crescente divenendo anche sostenuto e forte nel corso del pomeriggio e della sera. Per quanto riguarda le temperature, temperature in lieve aumento sulla costa per l'effetto dello scirocco intorno ai 20 gradi, le massime più o meno stazionarie in pianura. Lunedì ancora condizioni di tempo perturbato al mattino con piogge abbondanti anche intense, specie sulle zone occidentali. Lo scirocco lascerà lo spazio alla bora che sarà piuttosto forte nel corso della giornata sulla costa. La quota neve in calo intorno ai 1000 metri circa. Condizioni di cielo coperto e piogge anche per martedì con bora forte, in grafica intorno ai 100 km orari sulla costa a Trieste e temperature ancora in lieve calo. Buon fine settimana a tutti!